A quei giocattoli ora non esistevano più Ragazzi ma dove sono? E soprattutto come sono vestita! Wow! Il mondo dei giocattoli! Ciao amici! Come avrete notato? Io sono già in pigiama perché domani si va a scuola E guardate il mio pupazzo è una piccola rennina Ci dovrebbe essere scritto il nome Fulmine! L'avevo chiamato Fulmine, sì E come sapete tra un po' è Natale E quindi io avevo voglia di leggere qualcosa di Natale Tipo un libro di Natale Volete chiederlo alla mamma? Mamma! Per favore puoi venire qua che mi legge una strada di Natale? Amore mio! Certo! Un po' di l'istoria e andiamo a letto Ho già preso il libro, arrivo! Leggiamo questa bella storia Un giocattolo per Natale C'era una volta un signore che era uscito per comprare giocattoli Per regalare il giorno di Natale ai suoi figli e nipoti Ma non facciamola tanto lunga È complicata, quel signore ero io Amore si stanca! Che poi non sono un signore Eccomi dunque a vagare di negozio in negozio A sospirare di vetrina in vetrina Sempre più incerto, sempre più confuso Ero partito con l'orgoglioso proposito Di comprare ai ragazzi i giocattoli che io stesso avevo desiderato da bambino Senza mai riuscire a farmeli regalare Ma quei giocattoli ora non esistevano più Ora è... Ragazzi, ma dove sono? E soprattutto... Come sono vestita! Che freddo qua ragazzi! Ma soprattutto, la mamma dov'è? Venite, andiamo a scoprire un po' Un osso gigante! Che bello! Amici, ma dove sono? C'è la neve! Poi c'è un po' di neve anche! E là, c'è la slitta! Avete visto che bella slitta? È bellissima! Ma a me sembra quella di Babbo Natale Scusate nei commenti! Mmh, che bella slitta! Che freddo! Ma è chiarissima questa neve! Amici, mi sa che sono al Polo Nord! Furtido! Dato che sono al Polo Nord E secondo me c'è Babbo Natale Perché non andiamo a curiosare? Venite! Wow! Il mondo dei giocattoli! Guardate amici, ho trovato la casa degli Elpi! E' piccolissima! E' piccolissima! Che bella! C'è anche il bar! Che bella! Che buzza! Quando in bannio E' piccolissima! E' piccolissima! Che bella! Che buzza! Cucinano accanto al gabinetto io non lo farei mai Ludi come si chiama? la lenda Ludi tutta lì c'è un calcino Beppe e chi è Beppe? Beppe poi ho trovato ragazzi ho trovato la camera di Babbo Natale è il suo letto e tutti i suoi vestiti e c'è pure l'albero di Natale che bello è un po' disordinato questo Babbo Natale però ma qui spedificano i pacchi regali che bello guardate guardate la pietra le rally andiamo dove sono finita? qui è tutto Kiki che bello una casa ehi ragazzi ma qua dietro c'è? venite venite c'è un passaggio segreto andiamoci subito venite ma da dove si passa? di qua? di là? vabbè passando di là guardate che bello sono tutti dolci mi sta venendo fame mi sta venendo fame mi sta venendo fame c'è un saccio segreto veramente c'è un po' di al metri saliamo una pianta rosa che strano non l'avevo mai vista ragazzi ragazzi con tutti questi dolci mi è venuta fame mangio un chicco guardate che belli certo che viene fame amico mio amici si è addormentata che amore buonanotte amore mio mamma ah meno male ho fatto un sogno stranissimo ero al polo nord oddio meno male amore ti ho sentito chiamarmi che è successo? ho fatto un sogno stranissimo un sogno stranissimo ero al polo nord al polo nord ma allora era un sogno bellissimo si e c'era pure la macchina dove creava i giocattoli che bello poi c'era pure il letto degli elfi e c'era pure il letto degli elfi? si c'era pure il gabinetto il gabinetto? si ma che ma dove facevano la pipì? si e c'era pure la cucina e poi tutto il letto di babbo natale con tutti i suoi vestiti che bello però il gabinetto degli elfi ma che schifo puzzavo pure pure? che schifo vabbè amore dai ora è all'ora di andare a letto quindi salutiamo i nostri amici ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale attivate la campanina e lasciate un bel like ciao 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 Grazie a tutti.